265 casi su 19.268 tamponi processati, tasso di positività all'1,37%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 12 novembre. I casi emersi dal report precedente erano stati 262 su 21.580 test con positività all'1,21%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia è ora di 275.415, di cui 3.631 attualmente positivi, 264.923 guariti e 6.861 deceduti. 3 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 66 sono i casi attivi in più rispetto all'11 novembre, 196 sono i nuovi guariti. Salgono da 155 a 159 i pazienti ricoverati in area non critica, restano 19 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dagli 80 nuovi casi emersi nel Baresia, 100.237 il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. Numeri simili nel Foggiano e nel Tarantino, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 58 e 57 nuovi positivi. 48.693 il totale della Capitanata, 42.143 quello della zona ionica. 35 sono i nuovi contagi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 21.879. 32.370 il dato complessivo dell'eccese, zona nella quale i nuovi positivi del 12 novembre sono 27. 7 sono infine i nuovi casi emersi nella Bat, 28.553 il totale della provincia di Barletta, Andrea Trani. A chiudere il quadro un residente fuori regione. 4.418.835 il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.